Utilizziamo solo farina macinata a pietra e olio extraverso. Ma facciamo sia in piatto che da portare a casa. Grazie a tutti. Buonasera. Buonasera. Una focaccia a formaggio integrale. Poi la faremo su. Abbiamo anche i piattini da sport. Sì, se vuole, va su. Ma... 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 Utilizziamo solo farina macinata a pietra e olio extraverso. Ma facciamo sia in piatto che da portare a casa. Come... Ma facciamo sia in piatto che... Grazie. Una diamante. Olio? Olio. Sento il profumo. E' allo! Sento il profumo. Olio! Grazie a tutti. Grazie a tutti Non ci offendiamo Vedi che io non ti ho chiesto Arriva Hai fatto bene Ciao Grazie a tutti 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 Grazie a tutti